No, l'hai tolto! Aveva lasciato lo zaino sul coso! L'avevo per filmarlo quando Willy l'ha tolto. Ci stavano due davanti. Un abbraccio. Stai ancora continuando con questo video? No, guarda, ho cominciato un'altra. Un'altra! Capito! Giornata legale! Ah, la multijet che c'è di solito! Fammi anche l'altra! Eh? E' una multijet che c'è praticamente ogni giorno. Quindi ora fammi anche l'altra! Ok, grazie. Dopo l'esperimento di chimica, devo dire che... Guardi ha rovesciato tutta l'acqua! Ho buttato tutta l'acqua! Cosa me ne facevano? Il tappo è stato spiaccicato nella macchina! Adesso te lo posso dire! Veramente! E' rimasto in mezzo all'attorno e ci è passato sopra la macchina! E quindi? Che rimasta dentro la macchina? No, è rimasto spiaccicato! E poi non lo trovavo più, ok? Se l'hai portato via la fatina... Poi domani ci saranno 10 euro! Libero! Dai, andiamoci! Guardi l'effetto arcobaleno! Tranquilamente! Anche prima! L'effetto arcobaleno! Bellissimo! Guarda! Guarda, guardi un arcobaleno! Anche dal collegio ci lasci! Perché lui è a due passi! Io salgo e poi mi faccio la gallita! Ma cosa dici? Guarda, 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 guarda! Non state pure minuti di abbannare con la mamma diare! Tu guardi! Si è stata 20 minuti! Si è stata 20 minuti! Mi hai fatto sbisicare come un pazzo! Non mi sono nemmeno la volta! E poi si è stata 20 minuti a abbannare con la mamma diare! 20! 26! Punto! Eh! Ecco! Vedo anch'io, mamma! Non ci fa! È mia mamma! Se luzie c'è quella occorre che Ourieden ma invece? Meme! Oh no! Meme! No, no! Ho detto oh nun! Oh non! Cosa oh non! Ah! Meme! Oh non! Questo è il mio non! Questo è è il mio non! Qua po' vuol dicile... ... Altrienni, sai mai fare un incidenteee! Si scendiamo mentre! Sanno due celui a un terremoto! No ora! Ci scendiamo contro il felineeeeeeeeeee!!! Contro il felineeeeee! Contro il felineee!! Grazie a tutti.